Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Doom Snap Map Qui ci troviamo con la mappa West Wing Occupation Il lead di mappa è D32PK24L E dice, nella descrizione della mappa La UAC come al solito ha infilato il naso dove non doveva Come Marine si è stato mandato a pulire i loro casini Ok, questa mappa mi è stata consigliata da un amico E mi ha detto, Davide, questa mappa è difficilissima E ho detto, beh, allora perché me la vuoi far provare? Semplicemente perché molti hanno quittato prima di finirla Almeno tu prova a portarla al termine Mi ha già detto, se muori, muori Oltre a quello... Questa è la prima volta che porto una mappa del genere, credo È una mappa a tempo Se entro dieci minuti non la si completa, la mappa si perde Interessante Quindi... proviamo? Ci vediamo dopo il caricamento Benvenuti alla struttura di QS di Marte Blocco in corso Ah, bene Dimenticavo di dire ragazzi, se vi interessa Questa mappa è giocabile fino a quattro giocatori Merda Ma... è vero, c'è il tempo Vita è rimaste tre Ah Ok Ok Ok, praticamente questo tipo mi ha detto di prendere quello che posso Prima che sia troppo tardi Perché lui è il dottor Collins e mi aiuterà a risolvere sta crisi Speriamo Ma credo che abbia sbagliato A dire Che... Un mio amico che finisce dopo dieci minuti sta mappa Perché il... Merda Che succede? Ah ok, devo premere il tasto Credo che il par non sia il tempo che ci serve per Credo che l'abbia intesa male sta cosa Perché il par di solito non è il tempo Che ti fa finire il... Che ti fa finire la mappa se lo superi Il par è il tempo dello sviluppatore Oh, può essere pure come dice lui, eh Però se sono già un minuto e mezzo mi devo sbrigare Aia, aia Che botte, oh Oh, l'ho sempre odiato questo modulo snap Per questo non l'ho usato Mai Nella mia mappa Nelle mie mappe Perché hai pochi spazi dove poterti muovere Ma dai, dove cavolo l'hai sparata quella granata? Ok L'importante è che la granata ci cura Però i demoni mi sembrano dei muri, eh Di nuovo Non capirò mai il perché si vuole aumentare la vita dei demoni A meno che non è un boss Ok Non ho la doppietta comunque Ah Blocco annullato Perfetto Io volevo dire una cosa Qua sotto niente, eh Ah no, ci sono dei colpi qua Ok Ok, devo andare di qua Perché ci sono Ma non ho la motosega io Là c'erano i I gas canister Come caspita si chiamano, eh Ok Questa la conosco, questa zona Come le mie task L'ho messa pure io un sacco di volte Nelle map Ah Ah, la vampata Non ha lo stordimento Cavolo Non mi piace mo Ma Mi so Ok Io se li ho saltato in testa Tipo a modo di Super Mario A quello Senti Fammi un favore Ma questi qua con lo scudo Ma sono Sono troppo up per sto gioco Quelli lì con lo scudo Ma pure la vampata Riescono a resistere Dov'è quel cavolo di cacodemone Che mi sta rompendo Ecco qua Ok Ma dai Non ho la maestria al massimo Delle granate Va bene Ok Tutto questo giallo Mi sta afferendo le corne Oh vabbè Cerchiamo di finirla Più in fretta possibile Ma te smettila di sparare Eh vabbè Farlo con il muro Guarda Guarda quell'altro Come spamma Quel maledetto Con lo scudo No ma non ce la farò mai A superare il par Cioè Supererò il par Non ho capito Perché poi Aveva così poco tempo di gioco Sto mappa In effetti è vero Molti hanno quittato È così difficile Cioè Io già ho superato I due minuti E che cavolo Beh in effetti Le orde non mi sembrano Pensate Bene eh Mi sembra che Mi stia lanciando Il Tutto il Possibile Madonna questo Come l'odio Questo nemico Mamma mia eh Ok Ma muori No in effetti Le orde Sono veramente Cattive Perché A meno che Non mi sono perso Io qualcosa Ok Il revenant è andato Ah Ah Ma ha fatto sempre La glory kill Sul davanti Ma dai Ho saltato in alto Vabbè Ok Chi è Guarda Quei limpo Guarda 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 L'ho beccato No Mannaggia Ma Ma penditi Perché non si è appeso Ok Perfetto No no Io Andar di fretta Oramai Sono a 6 minuti Solo alla prima Ord Quindi C'era pure il berserk Ma dai Ma metti almeno Una luce Fammi capire Che sta il berserk Nell'area Perché è tutto rosso Qui dentro E non lo vedi In colpi E' tutto rosso Lì dentro Ragazzi Non si vedeva Vi giuro Ok Questa l'ho messa In doom tv Questa arena Spero che quella mappa Ci abbiate giocato In molti Aia Aia Ma Ma quanti Calmi Calmi Ma quanti All night Ci sono Oh Eh vabbè Eh pure il pinkie Ma dai Ok il pinkie è andato A me quello Mi interessava I pinkie In sto gioco Sono veramente Infami Dai Aia Ma ce non ha Ma quanti E pigliati la vampata Un altro che è andato Che pigliati pure te la vampata Non mi ha fatto la glory kill Ma non è vero Ma non è vero L'avevo fatta la glory kill Dai Ma non me l'ha data E anche questo Ecco qua Oddio 8 minuti Se il mio amico Ha detto il vero Fra un minuto e mezzo Scopriremo che Non si può più andare avanti Nella mappa Perché Non ho Non sono riuscito A finirlo in tempo Vabbè Chi se ne frega Allora Eh sì Un po' d'armatura Mi servirebbe Ah Spawnano negli angoli Perfetto Ah ok Spawnano in tutti gli angoli Le armature La mia domanda è Respawnano anche? Vabbè Vediamo un po' Tanto manca un minuto Vediamo un po' Se è davvero Come ha detto Oh Velocità Perfetto Ole Questa è andata Dammi la vita Non me l'ha data Bastardo Ok One room left Ok Ho superato il tempo Non è successo niente Mi ha mentito Va bene Va bene Mi ha mentito Vabbè Non vi preoccupate Forse era una cosa Per farmi divertire di più O per farmi andare più in fretta Ma Quindi sti cosi Non servono a niente Non servono a niente Se le porte Si aprono da sole Ops Oh mamma mia Ok Questa Potrebbe essere pericolosa Tanto pericolosa Perché Oh 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 Meglio che mi tengo I piccolini Per prendere vita Va Ma ti calmi Mamma mia Ma ha preso in pieno Dammi la vita No Mamma mia Ma dai Non l'accetto Dai Ha previsto Dove stessi andando Aia Ma che cavolo ha questo Ma Ha il danno oltre il limite Che cavolo ha Cioè se ci sono i colpi Del BFG Ci deve essere anche Il BFG No Qui Oh oh Mi ha seguito Ma cosa Devo distruggere questi Se no non si ferisce Va bene Eh Ma Ok però Ma dai Cavolo E' un muro Ragazzi E' veramente Un muro Questo Con il Gauss Non gli faccio Niente Con il Gauss Gli faccio 2% Ma siamo Siamo ammattiti Aspetta Ma gli scarico Tutto il Chang'an Così No Che cos'ho No Mi è rimasto Solo questo Veramente E dai Mi serve Questa Ok Mamma mia Oh No ragazzi Un muro Veramente Quanta vita Gli ha dato Ma non va In glory Sto coso Ok Ma dai Ma come l'hai tirata Non è vero mai La dovevi tirare In avanti E l'hai tirata All'indietro Ma che cosa Cittone Cittone di un boss Però la parte finale Eh Comunque Mi è piaciuta Dai Se lo becca Dai il voto positivo Però Quella cittata Lì Mi ha proprio fatto Arrabbiare Non è possibile Una roba del genere Ok Bene ragazzi Vi ringrazio per essere stati con me Su Doom Snap Map Ci vediamo alla prossima